Ragazzi sabato 23 agosto ritorno alla mia bettaia ed ecco il primo porcino sono un po' in una posizione delle balle però eccolo qua speriamo ce ne siano anche altri ediamo inizio le danze eccone uno oggi c'è proprio poco eccolo qua che bello piccolino mangiucchiato mangiato un altro piccolo ma oggi veramente pochi ecco qua perfetto ecco un altro entramuffo gambone oh che bello ecco un altro piccolino ok no no tutti ragazzi sabato 30 agosto il bosco nonostante tutte le piogge che ha fatto in questo periodo mi sembra già quasi asciutto infatti ho già fatto un bel giro ho solo trovato questo qua che praticamente è un po' asciuttino ma però adesso ho visto questo fa sperare io sinceramente pensavo ci fosse poco e niente magari trovano un paio questo è bello fresco ci vorrebbe un bel temporale andiamo avanti giriamo e vediamo ragazzi sabato 6 settembre finalmente è riuscito a fare qualche temporale nonostante che ha provato da poco guardate che bel patato peccato che ha mangiato dalle lumache guardate che bello speriamo ce ne siano altri a più tardi